Il 13 settembre 2021 i carabinieri della compagnia di Pozzuoli hanno dato esecuzione ad un'ordinanza cautelare messa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della locale procura della Repubblica a carico di quattro indagati, padre, madre e due figli maggiorenni, ritenuti gravemente iniziati a vero titolo in maniera continuata in concorso tra loro di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti del tipo hashish, marijuana, cocaina e crack. Per due indagati è stata applicata la misura carceraria mentre per altri due è stata disposta la misura degli arresti domiciliari. L'attività investigativa svolta dalla stazione carabinieri di Monte Ruscello ha consentito di individuare una continua attività di spaccio presso l'abitazione degli indagati, riscontrare plurime cessioni di stupefacenti nei confronti di numerosi acquirenti dell'area fregrea segnalati in via amministrativa alla prefettura di Napoli e sequestrare la somma di 20.700 euro ritenuta a provento dell'illecita attività, nonché 161 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, marijuana, cocaina e crack. L'attività investigativa condotta anche con l'ausilio di telecamere installate presso l'abitazione degli arrestati, iniziata nei primi mesi del 2021, si è conclusa nello scorso mese di maggio.